A pochi giorni dalla notte di Halloween questi sono alcuni dei risultati, i vandari ovviamente non sono andati in festa, non sono andati in ferie neanche per questa notte, una panchina totalmente distrutta, questa è Piazza Umberto, una delle zone più trafficate sia dall'universitario vicino all'Ateneo ma anche vicino alla facoltà di risprudenza a due passi da via Melo, queste sono le condizioni della panchina totalmente distrutta, pochi giorni fa comunque non era in queste situazioni. Una panchina in meno in questa piazza e vandari che comunque continuano ad avere il loro corso in questa città. Grazie Grazie Grazie